Una vittoria di rapina in questo momento ragazzi, perché con quella spalla sbagliata di carne secchi Ozyman grazie al passaggio del compagno si lancia, si tuffa in spaccata per darla ad Elmas ed Elmas ragazzi non sbaglia. 2-1 in questo momento per il Napoli di Mazzarri a Bergamo contro l'Atalanta. Una partita che secondo me è stata molto bella, ricca di intensità, subito aggressive entrambe le squadre dove praticamente non davano modo di giocare l'una con l'altra però ragazzi alla fine diciamo che questi tre punti qua del Napoli sono tre punti pesantissimi qualora se li portasse a casa. Mazzarri che io devo essere sincero non mi convince come allenatore però se partisse con tre punti da Bergamo comunque è un buon inizio. Ecco un buon inizio, l'Atalanta che comunque ha avuto le sue occasioni come l'ha avuto anche lo stesso Napoli. Due gol annullati per parte. Se vogliamo sì è più una partita da pareggio per quello che si è visto in campo. Può essere però alla fine quando tu sbagli paghi. Soprattutto con queste grandi squadre qua. Se tu fai degli errori banali poi li paghi ragazzi. E Ozyman comunque vuoi o non vuoi. Appena trovato da un infortunio ti mette il timbro con l'assist. È un giocatore veramente importante per questo Napoli. Quello è poco ma sicuro. Attenzione perché qua non c'è nulla. Non c'è nulla direi. No, non c'è nulla. Primo tempo dovrei essere sincero. La prima occasione se vogliamo mezza occasione c'è l'Atalanta con Pasa di Cinoco e il corpo di testa dove Gollini comunque fa la sua parata. Poi passa in vantaggio Napoli col corpo di testa di Rachmani. Però ragazzi viene annullato per fuorigioco. Il fuorigioco è veramente minimo. La Rachmani ha una punta in fuorigioco. Però siamo abituati a vedere questi fuorigiocchi. Ricordiamoci il tacchetto di Ken che è ancora peggio. Quindi Rachmani per una punta gli viene un altro gol in fuorigioco. Ma poi arriva il gol quello ufficiale di Kvara Schelia che grazie a uno cross di Di Lorenzo sul primo pallo lui va incontro al pallone. Scalvini se lo perde. E Kvara di testa batte carne secchia. Tra l'altro Kvara secondo gol da quello che ho capito di testa nella sua carriera. Quindi non è un grandissimo colpito di testa. Però nonostante tutto se gli lasci spazio fa male anche in queste circostanze. E quindi ragazzi alla fine il Napoli passa in vantaggio. Risponde poi subito ad avalanta al gol con un copo di testa. Da quinto a quinto in questo caso Kupemainers sul secondo pallone. Dove Gollini ragazzi fa una paratona clamorosa. Perché Gollini fa una paratona veramente molto importante su Kupemainers. C'è da dire questo. Continuamente al pallone del Napoli perché non era facile una parata del genere. E poi ragazzi però ci sta anche quella grandissima occasione del Napoli. Dove lì sbaglia Ederson dove praticamente regala la palla a un giocatore del Napoli. Servito Zelischi. Zelischi a tu per tu con carne secchi. Prova a fare lo scavetto. Carne secchi con la mano destra che l'allarga. Riesce a fare un'ottima parata. E dopo quella parata lì ragazzi il Napoli ha avuto una serie di tiri praticamente tutti rimpallati. Vuoi o non vuoi quella palla non voleva entrare. Nel primo tempo si chiude comunque 1-0 per il Napoli. Nel secondo tempo diciamo che l'Atalanta comunque è entrata aggressiva. Ha provato in tutti i modi a trovare appunto questo pareggio. Pareggio che trova alla fine. Prima c'è stata l'occasione di Ruggeri appena entrato. Dove praticamente fa la sovrapposizione e tira col mancino pieno. E anche lì Gollini comunque molto bravo attento a fare la sua parata. Poi arriva Godi Lukman. Molto bello. De Ketilare che si gira molto bene. Usa molto bene il corpo a girarsi sui giocatori del Napoli. Allarga per il terzino. Che era se non sbaglio Attebor. Attebor poi crossa al centro. Trova Lukman che è davvero attaccante. Nonostante non sia neanche altissimo. Ha un'ottima elevazione. E di testa batte Gollini in questo caso. E Atalanta pareggia 1-1. Fa il gol del 2-1 Atalanta. Però annullato per fuorigioco. Perché Kupemainers che fa l'assist era in fuorigioco. Che dà la palla a Pasalic. E Pasalic aveva battuto Gollini. Ma ripeto tutto annullato per fuorigioco giustamente. Perché era fuorigioco. E alla fine ragazzi puoi. Vuoi o non vuoi. Victor Rosimena appena entrato. Subito subito ha avuto una palla importante. L'ho tirato di più ma intenzione. E la palla va sotto la traversa. Un Victor Rosimena. Tra l'altro senza mascherina. Fa quasi effetto vederlo senza mascherina. Perché a me noi ci eravamo tutti abituati. Victor con la maschera. Ma oggi rientra senza maschera. E soprattutto ragazzi. Poi appunto questo pallone qua. Sbagliato da carne secca. Un rivio veramente brutto. C'è il piattone del giocatore del Napoli. Che prova a controllare il suo pallone. Secondo me è anche scappata. La palla va avanti. Ripeto come un felino. Come un gatto. Si fiona su questo pallone. In spaccata. Riesce a servire Elmas. Anticipando l'intervento di Jim City. Se non sbaglio. E ragazzi poi. Elmas davanti a carne secchi. Non sbaglia. E trova il gol del 2 a 1. Tra l'altro Elmas che aveva già segnato. In questo stadio. Vi ricordo perché. Fece gol anche l'anno scorso. Quindi quando gioca a Bergamo. Elmas se la sente. Se la crede. Ed è un gol importantissimo. Ripeto 2 a 1. Tu prenderesti 3 punti. Su una tua diretta concorrente. Se non sbaglio. Era Napoli a 21. Era Atalanta a 21. E Napoli a 22. Adesso invece. Se non sbaglio. Dovebbe essere Atalanta a 20. Non vi viene cavolata. Ma. Napoli a 24. Quindi. Importantissima. Sta vittoria. Importantissima. Ti allontani di 4 punti. Dalla Dea. E poi ripeto in casa ragazzi. Non è facile. Purtroppo in casa ci abbiamo perso solo noi. Cioè. Ci abbiamo pareggiato solo noi. Perché. Voi non vuoi la Juve in casa ci ha pareggiato. Inter e Napoli ci hanno vinto. E. E Mazzari ragazzi. Zitto zitto. Si porta quasi 3 punti a casa. Mancano ancora. 2 minuti e mezzo. Però il Napoli sta vincendo. Sta vincendo. La squadra in sé. Ovviamente. Nel Mazzari appena arrivato. Ha lasciato giustamente il modulo 4-3. Intelligentemente. Perché non puoi cambiare un modulo. Dove una squadra è abito a giocare così. Ovvio. Non si vede già la mano dell'allenatore. Per me. Cioè. Napoli. A tratti. Ha giocato bene. A tratti no. Perché poi è salita in cattina. Alla stessa Atalanta. Che comunque ha giocato molto bene. Vedremo più avanti. Ovvio. Ripeto. Mazzari arriva in un momento molto difficile. Cioè. Napoli. Ha Atalanta. Che sta vincendo. E' già un ottimo risultato. Poi avrà Inter. Juventus. Andrà Madrid. Non è facile ragazzi. Non è facile. Mazzari arriva in un momento. Veramente. Molto molto delicato. E non semplice. Però ripeto. Se tu già esci con 3 punti. Dal Davis. Tanta roba. Tanta tanta roba. E' tornato Victor. Quara è sempre più trascinatore. Secondo me. Di questo Napoli. Quest'anno è proprio lui. Quello che trascina Napoli. Se l'anno scorso. C'erano Victor e Rosyman. E che va la scheda insieme. Quest'anno è proprio Quara. Che si è messo sulle spalle. Questo Napoli. Perché Rosyman. Ha avuto anche dei infortuni. Che lo hanno bloccato. Però è così ragazzi. Per me è così. Per il resto. Non ho altro da dire. Se non sbaglio. Ho avuto un'occasione. Muriel. Poco fa. Ma la palla è nata alta. Su qua la traversa. E niente ragazzi. Vedete che il video può finire qua. Quindi se vi è piaciuto. Vi è piaciuto un bel like. Mi raccomando. Commenti sui commenti. E fatti. Se non vuoi. Cosa ne pensate appunto. Di questo video qua. Tra Atalanta e Napoli. Ti provo a su questo. Nei commenti. E soprattutto ragazzi. Anche se vi fa piacere. L'iscrizione al canale. Che fuori in realtà. Non costa nulla. E per me. Non costa nulla. E per me. Anche nei miei altri profili social. Qui da me anche è tutto ragazzi. Mi è mancato 30 secondi. Bella.